Musica Buongiorno a tutti gentili delle spettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh e buona giornata a tutti voi da Andrea Vignolini. È mercoledì 4 settembre 2024 e siamo pronti per leggere insieme a voi le prime pagine di oggi con le notizie principali del giorno. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura, raid russo, decine di morti, Kiev colpiti in un ospedale e una scuola militare, gli Stati Uniti, Putin brutale, lo zar in Mongolia aderente alla Corte Penale Internazionale, ma l'arresto non scatta, spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. Sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera, sul conflitto russo-craino, dagli alleati ci servono missili, a lungo raggio parla Podoyak, spiega il noto consigliere del presidente Zelensky. Sempre sulla prima del Corriere della Sera, invece, chi si trova in questo momento in difficoltà nel governo di centrodestra è il ministro della cultura Gennaro San Giuliano. San Giuliano sotto attacco non si dimette, mai dato un euro pubblico a Boccia, spiega Il Corriere della Sera. Si tratta ovviamente della dottoressa Maria Rosaria Boccia, che ha detto ovviamente sui social di essere consulente del Ministero per i grandi eventi. Il Ministero l'ha smentito, ma in realtà da quello che appare, dalle documentazioni che ha in mano Maria Rosaria Boccia, ovviamente questo va chiarito. La raffica di post tra carte e feste, l'attivismo dell'influencer Maria Rosaria Boccia raccontato dal Corriere della Sera di oggi, e poi Marco Cremonesi che racconta il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Gennaro San Giuliano a Parazzo Chigi. Le domande incalzanti e la difesa del ministro, ma non tutto è stato chiarito. Sempre sulla prima pagina di oggi del Corriere della Sera, noi coniugi del volley, d'avversari, è strano, De Gennaro Santarelli, la vita e la sfida ai giochi. Vedete Daniele Santarelli, allenatore di Limocco Colegliano e della Nazionale Turca, e la moglie Monica De Gennaro che festeggiano con un bacio la Coppa Italia. Poi sempre sulla prima pagina del quotidiano il Corriere della Sera, Paderno, la Playstation, poi 68 coltellate, il 17enne IPM, pensavo che così sarei stato libero, la confessione col cappellano. E poi vedete i detenuti contro i killer di Sharon, la protesta trasferito, è stato trasferito Mussà Sangare dal carcere di Bergamo a un'altra struttura, per ora segreta, spiega il Corriere della Sera in edicolo oggi. Mentre sfogliamo tutta la rassegna stampa che più tardi leggeremo con le notizie che arrivano da Firenze e dalla Toscana, anerviamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica con le notizie del giorno. Eccoci qua. Caso San Giuliano, La Repubblica titola Meloni in ostaggio. Ci va giù duro il quotidiano diretto dal direttore Molinari. Il legame tra il ministro e Boccia preoccupa gli alleati del G7 in vista del Summit. La donna avrebbe registrazioni e video perché praticamente è entrata al ministero con quegli occhiali che consentono ovviamente di registrare. Ci sarebbero oltre due ore e mezzo di registrazioni. Teso faccia a faccia tra la Premier in difficoltà e il titolare della cultura. Niente dimissioni per evitare un rimpasto. Von der Leyen disaccordo con Macron e Scholz per l'incarico affitto. E poi sempre sulla prima pagina di oggi, Louis Vuitton Cap a Barcellona, Luna Rossa batte il fulmine e New Zealand spiega il quotidiano La Repubblica in edicola. Oggi il momento in cui cade un fulmine nel mare vicino a Luna Rossa nella foto sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. Sempre sulla Repubblica di oggi, a Paderno Dugnano, il 17enne della strage, piange e confessa. Al prete non mi spiego il male che ho fatto. Massimo Recalcati, noto ovviamente psichiatra, firma l'editoriale di oggi su Repubblica. Quel che resta delle famiglie. Restiamo sempre però sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica con l'Ucraina, missili russi, 50 morti, rimpasto a Kiev, via anche Culeba. E poi al cinema di Venezia, Queer, l'amore tossico di Guadagnino. Andiamo sulla prima adesso del quotidiano La Nazione con tutte le notizie del giorno. Giusto il tempo di arrivare sulla prima pagina. Unione Europea fitto verso la delega all'economia. Dunque la nazione che apre con le decisioni che saranno prese per quanto riguarda il commissario europeo. In pollo ovviamente l'attuale ministro Raffaele Fitto. Anticipazione dalla Germania. L'Italia avrà una vicepresidenza di peso e le deleghe del PNRR. La decisione finale l'11 settembre. Intesa Meloni-Wonderlein, Macron e Scholz più deboli. Liguria. Il PD spinge Orlando, ma Italia viva si spacca. Maratin spiega non lo voto. Sulla prima pagina del quotidiano La Nazione vedete la fotonotizia. San Giuliano non mi dimetto. Il ministro a colloco con la Premier per adesso resiste. Si fa sempre più delicato per il governo il caso San Giuliano esploso dopo le rivelazioni dell'influencer Maria Rosaria Boccia sulle consulenze a suo dire promesse e poi negate dal ministro della Cultura. Ieri a San Giuliano è stato a rapporto dalla Premier all'uscita, ha confermato la versione nei giorni scorsi, mai usato soldi pubblici per pagare i viaggi della dottoressa Boccia. Non mi dimetto. La donna però torna all'attacco, spiega il quotidiano La Nazione. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione il profondo rosso della moda toscana salvare lavoro e ditte all'economia che soffre. E poi orrore dall'Australia a Pisa, l'abbiamo letto ieri sul Corriere Fiorentino, il maestro era un pedofilo. 307 abusi. Sempre sulla prima della Nazione con ovviamente le altre notizie che arrivano da Firenze, anziano aggredito, arriva alla stretta, market chiusi e agenti a piedi. E poi a Firenze ancora le esche killer per cani, nuovi casi in tutta la città. E poi a Via Leredi, giù 13 pini, ed è ancora scontro ovviamente sul futuro di quella porzione di città. E adesso la prima pagina del quotidiano il Tirreno, con le notizie del giorno che arrivano dalla Toscana. L'over tourism non c'è stato. Agosto sotto le previsioni è il titolo di apertura dell'edizione del Tirreno. Meno stranieri all'Elba, posti letto occupati, fino all'88%, scrive il Tirreno. Alla fine è andato un po' meno bene di quanto ci si aspettava. Niente over tourism, niente attività recettive piene fino all'orlo, neanche all'Isola d'Elba che alla vigilia di agosto e anche a metà mese era data come la meta toscana di punta del turismo valleare con un'occupazione di posti letto prevista fino al 98%. Ad agosto all'Elba, spiega Massimo De Ferrari, la copertura dei posti letto è stata dell'87-88%. Il mercato immobiliare, il 20% investe nel mattone, acquistare in Toscana rende al top sorpresa c'è la città di Livorno, spiega il Tirreno. E poi la fotonotizia a centro pagina, le Paralimpiadi, grande Sara, il bronzo è suo, stiamo parlando di Sara Morganti, la mazzone lucchese, Eddie Barga che ha centrato il bis con il grande risultato di ieri alle Paralimpiadi di Parigi. dopo le due medaglie di bronzo ottenute a Tokyo 2020, ottiene un magnifico terzo posto, il bronzo dell'individual test con il punteggio di 74,625, un'affermazione ottenuta nella reggia di Versailles. Poi sempre sulla prima pagina del quotidiano del Tirreno, la cronaca, pedofilo seriale, ha insegnato anche a Pisa, a caso Griffith, lavorava in una scuola privata, quattro episodi di violenza sui minori, vedete nella foto, Paul Ashley Griffith. Sanità, prevenzione, ci sono pochi vaccini, slitta la campagna contro il virus e poi nel taglio basso quello che accade a Grosseto, minacce fasciste, annullato il corteo anti-Casa Pound, polemiche e intimidazioni, la denuncia dell'Ampi e poi a Firenze il laboratorio di idee lo lancia a Nardella alla festa del PD. Siamo ancora all'interno del quotidiano del Tirreno con i richiami in prima, allarme cocaina, consumo boom fin dai 14 anni, a Livorno i vigili allontanano dalle strade 13 senza tetto, a Cecina avvia la maxipulizia delle strade ecco il programma e poi a Rosignano svolta la Knauf raddoppiato il congedo e a Piombino intesa sulle aree e faccia a faccia tra Urso e Gindal spiega il quotidiano il Tirreno sulla prima pagina di oggi. Andiamo sempre sulle prime pagine del giorno e con i titoli di oggi lo facciamo anche con la rassegna stampa sportiva il titolo di apertura del Corrierello Sport Stadio dà una notizia perché non soltanto Gudmundson è tornato ad allenarsi con la squadra ma attenzione in Islanda comincia il processo Albert è sereno e ripete di essere innocente i giorni di Gud vola a Reykjavik Firenze aspetta l'attaccante parte nel weekend deve difendersi dall'accusa di cattiva condotta sessuale salterà anche la gara di Bergamo e quindi non c'è un problema di infortunio ma il problema è legato ovviamente alle vicende processuali che riguardano il calciatore il neocalciatore della Fiorentina andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano la Gazzetta dello Sport con ovviamente i titoli di oggi e l'apertura del giorno eccoci qua nel taglio alto credici Jannik duello con Medvedev per la semifinale degli US Open Sinder batte Paul negli ottavi stanotte torna in campo a New York e quindi per Jannik Sinder la possibilità di arrivare alle semifinali degli US Open Lautaro top goal pallone d'oro oggi la lista è tra i grandi attaccanti con l'Inter lancia la sfida ai migliori bomber d'Europa e pensa alla Champions e poi Vlaovic fiducia alla Juve fiducia a Juve due anni in più regalo a Motta pronto il rinnovo per Dusan e poi quello che è accaduto al Milan Furlani fa muro spiega la D tutto il Milan è con Fonseca e poi la notizia del giorno che riguarda l'American Cup che fulmine l'almuna American Cup a Barcellona batte i campioni del mondo di New Zealand e il temporale incredibile l'impresa di Luna Rossa durante la regata dell'American Cup ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco con Refresh e con tutte le notizie di oggi su Toscana TV e Firenze TV restate con noi Buongiorno a tutti i gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV ben trovati a Refresh e buona giornata da Andrea Vignolini è mercoledì 4 settembre 2024 e siamo pronti per sfogliare insieme i quotidiani dopo aver letto le prime pagine all'interno del Corriere della Sera pagina 2 razzi russi su Poltava strage di civili e militari rimpasto di Zelensky le ultime su conflitto russo-ucraino la condanna americana un esempio della brutalità di Putin lo ZAR in Mongolia si dimettono tre ministri Kiev annuncia che cambierà mezzo governo e dunque non si fermano i missili dello ZAR sull'Ucraina ieri è stato il turno della città di Poltava città dell'Accademia Militaria Ucraina snodo ferroviario che congiunge est e nord nonché retrovia del fronte colpita con due missili balistici lanciati dalla Crimea sopra la scuola di comunicazione militare ucraina in un raid che ha danneggiato anche un ospedale e due edifici adiacenti il bilancio è uno dei più alti da inizio della guerra 51 morti con oltre 200 feriti ma si tratta di un conteggio destinato a salire visto che molti sono ancora dispersi intrappolati sotto le macerie l'intervallo di tempo tra l'allarma e l'arrivo dei missili è stato così breve che gli studenti non hanno fatto in tempo a scendere nel rifugio hanno spiegato dal Ministero della Difesa e dunque all'interno del quotidiano il Corriere della Sera si vede anche 35 chilometri di territorio russo in cui sono penetrati i soldati ucraini Kiev controlla la città di Suza importante hub energetico oltre 90 insediamenti circostanti sono stati distrutti tutti e tre i ponti sul fiume Saim sempre all'interno del quotidiano del Corriere della Sera parla Podoliak uno dei consiglieri ovviamente del presidente Zelensky aiuti urgenti e aumenteremo la produzione bellica interna ora armi a lungo raggio l'unica risposta possibile restano i sistemi antimissile le nostre operazioni mirate a colpire in profondità sul territorio russo nella regione russa di Kursk la nostra controffensiva continua e si espande e sta già dando risultati politici e militari di qualità spiega il quotidiano il Corriere della Sera sempre sul Corriere della Sera però con invece la politica interna e il caso che riguarda il ministro Gennaro San Giuliano e Maria Rosaria Boccia comunicatrice apparsa varie volte a fianco del ministro ha ringraziato San Giuliano per la nomina consigliera dei grandi eventi nomina smentita dal ministero ma in realtà Boccia ha avuto accesso al ministero era più volte a fianco di San Giuliano e su questo il ministro deve chiarire San Giuliano convocato da Meloni ripeto neanche un euro pubblico a Boccia il nodo dei soldi pubblici Muret di Forza Italia mi ha detto di aver usato le sue carte di credito personali l'opposizione molte le richieste al ministro perché riferisca in aula il PD si domanda ma è sotto ricatto queste ovviamente le dichiarazioni pressato dalle polemiche e dalle richieste di chiarimenti di PD e W San Giuliano ha riferito alla premia di non aver consegnato a Boccia documenti sensibili le ha risposto sui social il punto principale però è che Boccia ha fatto vedere che era in possesso di alcune mail che riguardavano l'organizzazione del G7 a Pompei faccia a faccia di 90 minuti su spese e accesso ai dossier poi il ministro incassa la fiducia fino a prova contraria la scelta di lasciare a lui la comunicazione sull'esito dell'incontro gli alleati Meloni non ha consultato gli alleati Salvini la Lega non è interessata a Poltrone vedete diciamo così alcune diciamo foto che ritraggono Maria Rosaria Boccia al Ministero della Cultura con le chiavi di Pompei date al ministro a destra alla Pinacoteca di Brera con San Giuliano e il direttore Crespi i giorni frenetici sui social dai selfie coi volti noti ai riscontri sul suo ruolo la raffica di poste per replicare allo staff della cultura l'album fotografico con vegni ministri cantanti poi da un certo punto compare quasi solo San Giuliano la diffida la camera della moda il brand Fashion Week è nostro diffidiamo Boccia dall'usarlo e dunque ci sono ovviamente molte chiarimenti anche sul ruolo di Maria Rosaria Boccia andiamo però a un altro ruolo che sarà importante ed ecco sarà appunto Raffaele Fitto esponente di Fratelli d'Italia Commissione Europea l'ipotesi di fitto alla guida di economia e PNRR il ministro indicato dall'Italia avrebbe anche una vicepresidenza nell'esecutivo dell'Unione così il quotidiano il Corriere della Sera e ne dicono oggi a proposito ovviamente della nomina di fitto a commissario europeo intanto ci si interroga anche sulla manovra che sarà il light motive lo vedremo dei prossimi giorni delle prossime settimane manovra il cantiere delle pensioni minime e tempi più lunghi per il piano a Bruxelles rivista la rivalutazione degli assegni e poi sempre all'interno del quotidiano il Corriere della Sera con invece quello che accade nel campo del centro-sinistra nel campo largo del centro-sinistra i dubbi di riformisti e sinistra PD e il patto con Italia Viva non decolla le voci tra i dem è stato solo un flirt estivo Renzi la linea la detta la Schlein oppure no dice il leader di Italia Viva e a proposito ovviamente di quello che è accaduto vedete l'abbraccio e l'apertura il 17 luglio durante la partita del cuore tra politici e cantanti all'Aquila lo stop di Conte all'Alleanza di Italia Viva e la linea della segretaria ma in Liguria la partita non è chiusa spiega Raffaella Paita senatrice e coordinatrice di Italia Viva uscire dalla giunta a Bucci siamo pronti a fare passi che ci verranno chiesti nel 2015 o perso dei regionali per le divisioni a sinistra e per l'inchiesta io per prima dovrei volermi togliere qualche sassolino spiega Raffaella Paita intervistata dal quotidiano il Corriere della Sera quindi anche qua il tema ovviamente del campo largo campo diciamo senza Italia Viva per quanto riguarda la Liguria andiamo alla cronaca la strage con 68 coltellate prima giocavamo alla Play a Paderno Dugnano il 17enne risentito dai PM non avevo mai pensato di ucciderli ma i magistrati la premeditazione c'è spiega il quotidiano il Corriere della Sera ricordiamo ovviamente quello che è accaduto sabato scorso alla sera la famiglia si è riunita per festeggiare il compleanno del papà di Riccardo Fabio che compiva 51 anni oltre alla mamma Daniela 48 anni e il fratellino Lorenzo c'erano i nonni paterni finita la festa i nonni tornano a casa e vanno tutti a dormire Riccardo dorme in camera insieme al suo fratello Lorenzo a questo punto mentre il fratello minore dorme che Riccardo lo uccide accoltellandolo mamma Daniela e papà Fabio svegliati dal trambusto accorrono nella camera dei figli entrambi vengono accoltellati a morte il papà viene trovato vicino al letto di Lorenzo che evidentemente voleva salvare dopo aver sterminato la famiglia Riccardo chiama il 112 dicendo di aver ammazzato suo padre dice cioè che prima l'uomo aveva ucciso mamma e fratello e di averlo ucciso per questo con lo stesso coltello appare da subito chiaro che la mano del triplice omicidio è la stessa ma Riccardo tiene il punto solo dopo diverse ore in caserma nel pomeriggio alla fine crolla confessando la verità al suo avvocato e poi vedete resta la domanda perché è lo stesso Riccardo a indicare il movente mi sentivo un corpo estraneo alla mia famiglia pensavo che uccidendoli sarei rimasto libero e parla di un malessere che covava il cappellano del carcere Beccaria Don Claudio Burgio dice mi ha chiesto di confessarlo ha pianto ma voleva parlare Don Burgio è confuso però profondo racconta ovviamente diciamo così il parroco del carcere minorile del Beccaria di Milano dice il ragazzo che ha visto in cella non sembra corrispondere al profilo che più di frequente incrocia Beccaria no infatti mi vengono in mente solo pochi altri casi simili Erika e Omar che ho solo sfiorato quando era appena arrivato al Beccaria e un altro ragazzo che aveva avuto in comunità ero stato arrestato per tentato era stato arrestato per tentato omicidio della famiglia devo dire però che Riccardo devo ancora conoscerlo meglio per quello che ho visto ho conosciuto un ragazzo profondo molto profondo e anche lucido e consapevole di quelle che saranno le immediate conseguenze di ciò che ha fatto per la sua vita si aspetta il carcere come è andato questo suo incontro con Riccardo è stato molto intenso appena mi ha visto ha voluto subito confessarsi non me l'aspettavo da quanto ho capito non ha un vissuto non ha un vissuto recente di fede forse l'ha avuto da bambino e in questo momento forse si è aggrappato a questo retroterra dopo questo momento di confessione sacramentale abbiamo parlato e che impressione le ha fatto ho trovato un ragazzo fragile chiaramente provato frastornato ha avuto anche alcuni momenti di pianto ma come dicevo è un ragazzo profondo tanti poi parlavano di un suo essere chiuso invece no aveva voglia di comunicare avete in qualche modo parlato di quello che ha fatto lui non mi sembra abbia ancora ben chiaro i motivi ci vorrà del tempo ecco anche i tanti tentativi di spiegazione su cui si affanna ora credo che lasciano il tempo che trovano sono riduttivi è giusto invece sospendere il giudizio lasciare il silenzio e capire nel tempo lui e noi il perché di questo suo gesto poi sempre all'interno del quotidiano del Corriere della Sera per lui era insopportabile vedere i suoi familiari felici è un sentimento diffuso lo psichiatra Mencacci racconta i social amplificano le pulsioni più negative Claudio Mencacci direttore merito di neuroscienze all'ospedale Fate bene i fratelli di Milano dice c'è il mondo degli amici dipinto come positivo e quello familiare in cui è evidente un distacco emotivo un'anestesia affettiva forse ha covato un'invidia maligna un risentimento verso la felicità altrui cioè la sua famiglia quella sera diventata insopportabile questa è una generazione di genitori che non facilita distacco e autonomia è una protezione che non dà spazio e opprime così le parole dell'esperto e poi ancora all'interno del quotidiano del Corriere della Sera vedete Mussà il testimone minorenne ci mostrò il coltello in strada Bergamo identificati i ragazzi incrociati prima di Shalom il killer è stato trasferito dal carcere di Bergamo a un altro carcere di cui non è stata ovviamente resa nota la geolocalizzazione il ragazzo gelido minacciato dagli altri detenuti nessuna reazione e neanche una parola al suo legale andiamo avanti con le altre notizie sulle prime pagine di oggi lo facciamo anche con il quotidiano La Repubblica che ritorna ovviamente sul caso che riguarda il ministro San Giuliano San Giuliano allarme nel G7 il caso diventa internazionale Palazzo Chigi interpellato da due paesi sui rischi di sicurezza legati alle informazioni in possesso della consulente Maria Rosaria Boccia la donna avrebbe registrato con occhiali telecamera audio e video al mic e alla camera ci sarebbero addirittura due ore e mezzo delle registrazioni ma assicura non ricatto nessuno due ore di colloquio a Palazzo Chigi a rischio la tappa di Pompei del vertice e poi vedete la parabola del ministro innamorato del potere qua si fa un ragionamento su Gennaro San Giuliano i possibili sostituti sono due Alessandro Giuli che è attualmente direttore del Maxi il museo del contemporaneo di Roma oppure Pietrangelo Buttafuoco scrittore presiede la biennale di Venezia e dunque potrebbero essere loro due a prendere il posto di San Giuliano nel caso in cui la situazione con Maria Rosaria Boccia volga al peggio e Meloni lo processa ora devi giurarmi che non c'è altro ipotesi di fiducia a tempo questo Tommaso Ciriaco su Repubblica di oggi la difesa lei mi vuole screditare perché non l'ho più nominata Giulia Buttafuoco i nomi accreditati per la successione sempre all'interno del quotidiano Repubblica ci si occupa appunto delle trasferte di Maria Rosaria Boccia da Milano a Taormina il compleanno arriva Ligure i festival di Polignano e Taormina lei sempre in delegazione dice di non aver mai pagato e vedete proprio dal 3 giugno al 3 agosto tutti ovviamente i tour di Maria Rosaria Boccia a seguito del ministro San Giuliano la rida di versioni e giustificazioni offerte sin qui dal ministro della cultura non tappa tutte le falle di una vicenda che rimane contorta e poi c'è questo articolo molto gustoso di Filippo Ceccarelli che racconta da Petacci a Lady Golpe quando il potere prende una sbandata si fa riferimento a Clareta Petacci l'amante di Benito Mussolini a ovviamente Anna Pieroni negli anni 80 ha una lunga relazione sentimentale con il leader del partito socialista Bettino Craxi a Donatella Di Rosa soprannominata Lady Golpe per le rivelazioni infondate su un presunto colpo di Stato e poi il cavaliere Silvio Berlusconi insieme a Patrizia D'Addario al centro dello scandalo del Cene Leganti che apre il varco alle inchieste rispetto ad Anna Spante Posciad San Giulianesca Berlusconi si staglia come un imperatore spiega Filippo Ceccarelli nel suo pezzo andiamo avanti sempre con i titoli che riguardano in questo caso la politica il centro-sinistra verso i regionali Campolargo ancora battaglia al centro Calenda apre ma resta il nodo Liguria il ruolo di tessitrice della segretaria Dem Schlein niente piedi in due staffe si complica ovviamente la vicenda per la candidatura in Liguria di Andrea Orlando italiani dopo cinque anni con residenza e reddito la sfida del referendum Riccardo Maggi lancia ovviamente questa idea diciamo dello Ius Sanguinus per allargare le maglie della cittadinanza italiana con tanto di proposta di referendum andiamo sempre all'interno del quotidiano della Repubblica con questo articolo è proprio il caso di dire gustoso ceci sciroppo di riso e niente più latte la nutella vegana ora sfida i puristi Italia Francia e Belgio sono le nazioni pilota dove i vasetti saranno distribuiti e dunque arriva sugli scaffali la nutella vegana vedremo se sarà anche questa un successo come i nutella biscuit oppure anche il gelato della nutella andiamo avanti con i titoli del quotidiano La Repubblica in calo e il reddito delle famiglie peggio dell'Italia solo la Grecia in perdita in 15 anni la perdita in 15 anni è stata del 6,26% lontani dalle medie dell'Unione Europea sul lavoro e rischio povertà e vedete le cifre del reddito disponibile pro capite nei principali paesi europei guardate ovviamente dove si trova l'Italia che è la linea verde in questo momento rispetto agli altri paesi sempre all'interno del quotidiano La Repubblica anche questa notizia che riguarda l'ex Breda i bus della rinascita targati Cina gruppo di Pechino entra come socio in minoranza in Lia stop alla chiusura della produzione a Bologna prima il tavolo sul nuovo piano industriale e poi ci si parla anche dell'Italia e dello spettro dei Dazi una vittoria di Trump ci costerebbe 6 miliardi di euro i rincari alla Tocana per il nostro export in caso di escalation perdiamo un punto di PIL e poi l'altra notizia che riguarda invece quello che accade nel mare a largo di Laverna Enesnam parte da Ravenna la caccia all'anidride carbonica sarà stoccata sotto l'Adriatico si punta a 4 milioni di tonnellate nel 2030 per decarbonizzare i settori energivori la sperimentazione parte con 25 mila tonnellate di CO2 l'anno per arrivare a 4 milioni di tonnellate entro il 2030 andiamo avanti sempre con le notizie del giorno lo facciamo anche con il quotidiano La Nazione e in particolare la notizia di cronaca che leggiamo e che riguarda anche Pisa è una vicenda da Pisa all'Australia l'orrore dall'Australia all'Italia l'abbiamo letta ieri sul Corriere Fiorentino la ritroviamo oggi sui quotidiani il maestro era un pedofilo seriale ha confessato 307 reati sessuali il 47enne Ashley Paul Griffith ha rivelato di aver commesso abusi anche in una scuola internazionale di Pisa l'istituto ora è chiuso lo sgomento di una ex collega seguiva una classe con bimbi dai 3 ai 5 anni poi sempre all'interno del quotidiano La Nazione siamo ad Arezzo morta in casa rintracciata la figlia ma il mistero è ancora da chiarire la donna a 60 anni è stata trovata dagli agenti della squadra mobile in una camera d'albergo a Rimini secondo il medico legale il decesso della madre ultra 90enne risalirebbe a 4-6 mesi fa e poi la notizia che riguarda in questo momento il territorio insofferente in particolare il distretto della moda sotto il vestito niente la moda non riemerge dobbiamo salvare i posti di lavoro licenziamenti già iniziati giù tutti gli indicatori la risalita è lontana ripresa prevista nella metà del 2025 ma si rischia di non avere più aziende sindacati e associazioni chiedono la proroga degli ammortizzatori sociali e poi nel taglio basso vedete anche il distretto di Prato si blocca stop alla produzione per un mese settembre fa paura al tessile tutto fermo dal 2 agosto al 2 settembre sintomo della crisi non accadeva da anni difficoltà anche per questo parla l'ex sindaco di Scandici Giovanni Doddoli il distretto del lusso salvaguardare la qualità con un marchio sull'origine l'ex sindaco l'eccellenza non può essere massificata deve esserci la certificazione a garanzia dell'esclusività del prodotto e poi ci occupiamo anche della vicenda delle acciaierie Urso vede il presidente di Gindal incontro decisivo per Piombino il faccia a faccia di oggi è stato deciso dopo il vertice tra aziende e sindacati sul piano per il futuro del Polo siamo ancora all'interno del quotidiano La Nazione con le notizie che leggiamo sulla prima pagina del quotidiano ostaggi in casa nostra non solo via Palazzuolo i residenti del condominio ex impdai di via Galliano chiedono aiuto siamo circondati da occupanti abusivi uno su dieci in questo stabile non è regolare e poi via Palazzuolo la stretta antidegrado il comitato per l'ordine e la sicurezza dopo l'aggressione al 91enne pattuglia a piedi minimarket chiusi alle 21 la donna fermata oltre un'ora davanti al giudice la moglie dell'anziano mio marito resta in coma e poi giù altri 13 pini in via Leredi i residenti si infuriano il comune è per la sicurezza restiamo sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione perché ci si occupa anche del blitz nelle società sportive ancora nel mirino ride al dopolavoro ferroviario danni per migliaia di euro e poi vedete la città che cambia si parla di uno studentato nell'ex ipodromo del trotto delle mulina siamo ancora all'interno del quotidiano La Nazione sicurezza le risposte minimarket stop alle 21 e poi pattuglia a piedi e tax force antidroga le misure varate dal comitato in prefettura da oggi più controlli nelle zone a rischio a cominciare da quelle di via Palazzuolo in arrivo l'ordinanza urgente del comune per le chiusure anticipate e poi vedete non solo via Palazzuolo benvenuti a casa del degrado il nostro condominio occupato da abusivi e pusher aiutateci il grido d'allarme dei residenti del palazzo ex impdai tra via Galliano e via Toselli su 48 famiglie soltanto 16 sono regolari qui la delinquenza si è fatta la Tana spiega il quotidiano La Nazione in edicolo oggi precisando ovviamente quali sono le aree di degrado della città e soprattutto la situazione per quanto riguarda appunto anche l'abbandono i rifiuti vedete le immagini shock che pubblica la Nazione in edicolo oggi poi siamo in via De Redi dove finiscono giù 13 pini spiega il quotidiano La Nazione in edicolo oggi l'iter residenti comune tutti sani è una follia no è per la sicurezza e ancora dopo i veleni dei mesi scorsi nella notte gli operai abbattono altri alberi rabbia social zero comunicazioni Italia Nostra attentato alla salute Palazzo Vecchio ribatte erano pericolosi presto 32 piantumazioni e poi incredibile quello che è accaduto ieri sera per chi si trovava nel tratto finale della 11 tra Firenze Ovest e Firenze Nord guasto alla rete idrica traffico in tilta a Firenze Nord vedete disagi anche allo smannoro e sesto fiorentino tutto questo perché è stata chiusa via del cantone per una perdita dell'acqua e ci sono stati problemi oltre diciamo a altre chiusure e ci sono stati problemi per raggiungere ovviamente la città di Firenze poi sempre all'interno del quotidiano La Nazione si parla anche del tram dei lavori della tramvia Sirio e braccio di ferro sottopassi opere e ponti tram e Palazzo Vecchio vanno davanti all'ANAC spiega il quotidiano La Nazione Gest si legge nel ricorso dovrà provvedere a custodia a vigilanza e al controllo di una serie di manufatti si tratta replica il concessionario di un potere autoritario che non trova fondamento in nessuna clausola contrattuale intanto Gianni rilancia con la linea fino all'ospedale Pediatrico Meyer la proposta del governatore e domani i conducenti fanno sciopero per quanto riguarda lo sciopero del trasporto perché ci sono appunto troppe aggressioni andiamo avanti sempre con le notizie del giorno che riguardano ovviamente Firenze e la Toscana società sportive è un assedio continuo spiega il quotidiano La Nazione in edicola oggi Maxi Saccheggio ai cestisti del dopolavoro ferroviario ma i ladri si tradiscono con le divise dopo i raid negli spogliatoi di Africa Flora Gaffire e Belmonte i balordi tornano a colpire alle cascine il presidente Cassola 4.000 euro di danni i colpevoli indossano le magliette scoperti al parco poi sempre all'interno del quotidiano La Nazione vedete il piano per la riqualificazione dell'ippodromo delle Molina studentato alle cascine piano per l'ippodromo ristorante in tribuna con negozi e palestra il progetto di recupero realizzato da Archea per il concessionario Pegaso attualmente le Molina risulta completamente abbandonato il comune parla di fase interlocutoria e SPC presenta un'interrogazione poi sempre all'interno del quotidiano Nazione stranieri in ospedale gettito di 3 milioni per le cure a pagamento nei pronto soccorso i pazienti extra way sono il 20% del totale nelle strutture cittadine farmaci a carico loro spesa di 400 euro per l'osservazione breve la regione soldi da usare per rafforzare il sistema e il personale e poi la notizia che si è verificata ieri sera in città il falso allarme bomba davanti alla sinagoga di Firenze in via Carducci l'intervento dei vigili del fuoco che è durato poco più di un'ora pacchi sospetti su una bici lasciata in via Carducci scatta l'emergenza strada chiusa al traffico dalle 21 l'arrivo del proprietario ha risolto il caso praticamente erano dei sacchi di raccolta dei rifiuti l'evento dell'artista spostato dal giardino della sinagoga al Teatro Verdi per l'allerta meteo invece per quanto riguarda il concerto della pace della cantante Noah questo previsto ovviamente per domani ma appunto è allerta meteo per la giornata di domani sera poi sempre all'interno del quotidiano La Nazione ieri Marco Stella nostro ospite segretario regionale di Forza Italia ci ha raccontato della visita al carcere di Sollicciano eccola qua Bergamini e Stella visita a Sollicciano è in una situazione drammatica gravi carenze strutturali la deputata e il segretario regionale di Forza Italia consigliere regionale del partito ieri in visita nell'istituto penitenziario fiorentino siamo a Sesto Fiorentino dove vedete in Viale dei Mille la perdita è stata riparata la perdita per la rottura dei tubi dell'acqua le famiglie tornano alla normalità nell'edificio lamentavano una scarsa pressione ai piani alti i residenti non riuscivano a lavarsi però ieri sono stati problemi ovviamente per tantissimi autobelisti per raggiungere Firenze cantieri RFI la fine dei lavori strade riaperte dopo il maxi stop l'accesso al centro non è più sbarrato concluso l'intervento e la viabilità torna alla normalità racconta da Rignano sull'Arno Manuela Plastina e poi invece l'altro tema che riguarda il nuovo guasto sulla Faentina il sindaco di Borgo San Lorenzo Romagnoli spiega recuperare credibilità dopo i maxi lavori di ammodernamento da 150 milioni treno in ritardo per un problema al passaggio al livello andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano la Repubblica di Firenze con ovviamente le notizie del giorno la moglie del pensionato in coma a questa zona è stata abbandonata lui è gravissimo dopo l'aggressione nell'androne del suo palazzo in via Finiguerra ieri il vertice in prefettura ci saranno in centro pattugli a piedi delle forze dell'ordine decisa una stretta sull'orario dei minimarket e poi vedete per le mulina spunta un progetto con ristorante e foresteria da 150 camere a centro pagina la protesta troppe violenze contro gli autisti dei bus domani l'antitrasporto pubblico in sciopero e poi a Grosseto dopo le minacce ampi annulla il corteo contro Casa Pound e poi le aziende agricole toscane salvate dal secondo lavoro in particolare le attività di boscaiolo e servizio di spallaneve e spargi sale racconta il quotidiano la Repubblica di Firenze siamo all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze con l'ampi che annulla il corteo anti Casa Pound e racconta abbiamo ricevuto minacce a Grosseto solo un evento in un parco durante il raduno della formazione di estrema destra ma proprio sull'evento di Casa Pound e le contromanifestazioni in programma ci vediamo il servizio di Toscana TG 22 associazioni hanno costituito l'alleanza democratica ed antifascista e con lo slogan mai più fascismo il prossimo 6 settembre in concomitanza del raduno nazionale di Casa Pound in provincia di Grosseto hanno organizzato un evento una contromanifestazione con un concerto al parco di via Leoncavallo si tratta di un evento per noi molto significativo in provincia di Grosseto è da tanti anni che non ci si pone una prospettiva di carattere politico-culturale unitaria la risposta della grande alleanza democratica antifascista a questa impostazione coinvolgere più generazioni metterle insieme in un grande evento che porterà anche tante istituzioni a essere partecipi e presenti insieme alla cittadinanza per dire no basta ai neofascismi e ai fascismi dobbiamo sciogliere le organizzazioni che si richiamano al fascismo come Casa Pound Forza Nuova e anche tante altre perché così è scritto nella legge così è scritto nella Costituzione della Repubblica Italiana vieta in qualsiasi forma il ricostituirsi di un partito fascista questo ci permette di dire con forza che nessuno può essere indifferente rispetto a una situazione come quella di un raduno nazionale di Casa Pound che è in Maremma che sta dentro la regione toscana che ha nel proprio statuto il richiamo all'antifascismo e ai valori della resistenza che hanno portato finalmente ad avere una Repubblica democratica e libera andiamo avanti anche come vedete i titoli all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze lo sfogo della moglie del pensionato in coma questa zona è stata abbandonata da tutti il marito è gravissimo in ospedale dopo l'aggressione in via Maso Finiguerra il cinema fulgor vuoto dormono lì sotto è gente pericolosa ci vorrebbe un presidio fisso ma abbiamo chiesto aiuto a tutti e non è venuto nessuno e poi il COSP il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza dopo il vertice in prefettura pattuglia a piedi in centro e stretta sui minimarket la decisione al comitato per l'ordine e la sicurezza chiesto dopo il pestaggio dell'anziano un'altra riunione già fissata per il 19 settembre per intervenire sullo spaccio alle cascine e poi dalle aggressioni ovviamente che riguardano gli episodi di criminalità all'interno di Firenze alle aggressioni agli autisti dei bus che fanno scattare lo sciopero del personale vogliamo vigilanza sulle linee a rischio Faentina problemi per i pendolari il sindaco di Marradi attacca ferrovie dopo un mese di stop per i lavori è una beffa questo spiega il quotidiano la Repubblica ne dico l'oggi poi l'altra notizia che riguarda il caso ovvero le aziende agricole che si sono salvate col secondo lavoro le cosiddette attività secondarie sono quelle che tengono a galla un sistema che ha visto cadere la produzione del 19% nel 69% dei casi è l'agriturismo ma c'è chi fa il servizio spalaneve chi pensa al verde pubblico e chi realizza cosmetici secondo col diretti le aziende agricole toscane tengono grazie anche alle attività secondarie poi il futuro della città di Firenze nell'ippodromo delle Molina dove una volta ovviamente correvano i cavalli a trotto si realizzerà un progetto con ristorante Aria Fitness e una foresteria da 150 camere il piano preliminare è stato presentato dalla società Pegaso titolare della concessione ma secondo Palagi di Sinistra Progetto Comune nell'ex ippodromo potrebbe essere realizzato uno studentato questo spiega Dimitri Palagi andiamo avanti con le notizie del giorno lo facciamo anche con la prima pagina del quotidiano il Corriere Fiorentino in Edicologi ovviamente tutte le notizie locali che leggiamo all'interno del quotidiano pattuglie a piedi in via Palazzuolo qua la decisione come abbiamo letto del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica dopo l'aggressione al 91enne adesso in coma vertice in prefettura controlli in tutte le zone più a rischio e minimarket chiusi dalle 21 parla la moglie dell'anziano rapinato i nostri allarmi da anni inascoltati Funaro il prossimo Cosp sarà dedicato alle cascine prossimo Cosp che si terrà il 19 settembre la denuncia il fenomeno una foto da Rione droga consumata in pieno giorno crack e cocaina anche tra i ragazzini e poi autisti aggrediti i sindacati fermano tram e bus domani lo sciopero di 4 ore restiamo sempre sulla prima pagina del quotidiano il Corriere Fiorentino il blitz nella notte in Via Deredi abbattuti 13 pini Italia Nostra nessuno ha avvertito Palazzo Vecchio spiega sono la causa di tanti incidenti e poi a Buon Convento in provincia di Siena doveva durare due mesi ma il cantiere del ponte ha già compiuto un anno il tempo di consegna doveva essere di 60 giorni invece i giorni sono diventati 366 la chiusura del ponte che collega Buon Convento con la frazione di Bibiano sta esasperando i cittadini isolati e poi Lampi noi minacciati e annulla il corteo contro Casa Pound lo scontro a Grosseto nel taglio basso al Carnevale no non ci tornerei Edmundo il suo weekend a Firenze è stato magico questa città ti entra dentro il grande Edmundo o Animal racconta ovviamente la sua visita nel capoluogo toscano e poi vedete nel neocquisto invece la sfida di Adli il nuovo regista voglio vincere la Fiorentina è ambiziosa quanto me dunque si ritorna sulla parola chiave del lessico della CF Fiorentina ovvero ambizione ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco con tutte le notizie che arrivano da Firenze e dalla Toscana grazie a Refresh la nostra segna stampa su Toscana TV e Firenze TV a tra poco Buongiorno a tutti e dalla Toscana grazie ai quotidiani locali andiamo all'interno del Corriere Fiorentino agenti a piedi stop minimarket alle 21 in via Palazzuolo e altre zone a rischio vertice in prefettura dopo la rapina shock in via Maso Finiguerra Funaro prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sulle cascine è stata decisa la creazione di un gruppo di lavoro con i rappresentanti di ASL forze di polizia e comune per prevenire l'abuso di alcol e droghe spiega il Corriere Fiorentino e poi parla la moglie di Ezio Ezio Clemente 91 anni residente in via Maso Finiguerra è molto conosciuto per il suo impegno per il rione nei confronti di senza tetto della zona da anni chiediamo aiuto zero risposte il luogo è abbandonato l'amarezza della donna che non vuole cambiare casa restiamo qui per la gente il marito è in ospedale sta malissimo in coma i medici non danno speranze c'è cascato il mondo addosso lui c'era per tutti io non so se sia giusto aiutare queste persone dice la moglie e poi la denuncia il fenomeno boom di crack e coca in pieno giorno anche tra i ragazzini le foto da Rione l'emergenza in tutta la città i ozzi del CERD il 40% dei nuovi pazienti arriva da noi dopo aver fatto l'uso di crack l'età media si aggira tra i 20 e i 24 anni ma nei nostri centri ci sono perfino 15 anni benericetti del CERD sono una minima parte dei giovani dipendenti arriva al CERD sono molti di più quelli che ne fanno uso non sono più droghe di elite una dose può costare fino a 20 euro e poi vedete nel taglio basso troppe aggressioni domani fermi tram e bus dopo l'ultimo episodio del 30 agosto scatta lo sciopero di 4 ore a partire dal 21 le richieste degli autisti mille della Faisa si realizzano le misure più volte annunciate cabina di guida chiusa impianti di audiovisivi a bordi e sistema di allarme saluto in collegamento con noi il parlamentare del partito democratico deputato Federico Gianassi eletto nel collegio uninominale di Firenze buongiorno e ben trovato Gianassi credo che abbiamo un problema con il collegamento lo recuperiamo tra poco non ci sono problemi allora l'altro tema riguarda invece il meccano tessile l'ex meccano tessile vedete nella foto fuori dall'ex meccano tessile sul Corriere Fiorentino ripresi i lavori il dialogo comune-università cantiere in ritardo fino a fine 2025 ma qualcosa si muove Danti avrà funzione pubblica e poi via le redi notte di abbattimenti tagliati 13 pini senza preavviso saranno sostituiti con 32 Ginko Biloba Italia Nostra un attentato alla salute Palazzo Vecchio questione di sicurezza ci sono stati 53 incidenti nel 2022 48 nel 2023 e 18 quest'anno sempre all'interno del quotidiano il Corriere Fiorentino fa in tina dopo un mese di lavori secondo giorno e secondo guasto ancora ritardi sulla linea ferroviaria dei Pendolari Triberti sindaco di Marradi parla di disservizi intollerabili nel taglio basso poi la notizia che riguarda Buon Convento in provincia di Siena dove il cantiere del ponte che doveva restare chiuso solo 60 giorni sta compiuto un anno Buon Convento tra lavori fermi ed errori di progettazione l'ira degli abitanti isolati spiega il Corriere Fiorentino sempre all'interno del Corriere Fiorentino altre due notizie minacce gravi Lampi annulla la manifestazione anti Casa Pound Grosseto scambio di accusi alla vigilia della festa nazionale dell'estrema destra l'abbiamo visto anche nel servizio e poi in via Ponchielli a via Reggio ha ancora vandalizzata la casina dei ricordi della strage di via Reggio basta chiudiamo questo è lo specchio fedele del degrado che investe molte zone di via Reggio e Torre del Lago spiega Lombi mentre Bandoni dice l'allarme strappato e buttato nel prato bivacchi e escrementi la situazione non è più giustificabile saluto in collegamento con noi il deputato del Partito Democratico Federico Gianassi buongiorno e bentrovato onorevole buongiorno a voi allora partirei innanzitutto dalla situazione che riguarda la città di Firenze sul fronte sicurezza dopo l'aggressione al 91enne in via Maso Finiguerra che attualmente si trova in ospedale in coma l'arresto ovviamente della 25enne rumena che ha compiuto il fatto e la decisione del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica degli agenti a piedi e dello stop ai minimarket alle 21 nella zona di via Palazzuolo prossimo cospa anche sulle cascine i comitati cittadini spiegano che è stata un'estate molto difficile sul fronte della sicurezza ricordiamo che questo è un tema diciamo così che compete al Governo Centrale diciamo il Governo Locale può intervenire con la Polizia Municipale con gli strumenti dell'antidegrado che però ovviamente non sono affatto sufficienti Onorevole Beh innanzitutto la mia vicinanza alla persona ferita ridotta in gravi condizioni in ospedale ai familiari e agli amici è una vicenda che mi ha toccato e penso ha toccato tutti molto profondamente perché è una violenza gratuita ingiustificata cattiva crudele nei confronti di una persona molto anziana e di una persona sempre disponibile generosa a dare una mano qui c'è un tema che riguarda complessivamente il nostro paese ma ne abbiamo parlato molto spesso molto anche nei mesi scorsi quando c'era la campagna elettorale poi la campagna elettorale è finita i ritmi delle polemiche politiche si abbassano quello può essere anche un bene ma il tema deve rimanere centrale qual è la questione noi la dobbiamo innanzitutto scorporare dalla demagogia politica io rilevo che il governo è in carica il governo della destra governa da due anni vinse due anni fa le elezioni promettendo sicurezza in tutto il nostro paese è del tutto evidente che il governo Meloni sta incontrando grandissime difficoltà sul tema della sicurezza e sta perdendo questa sfida perché è un tema estremamente complicato difficile che non si risolve con qualche tweet o con qualche social aggressivo e nemmeno con qualche norma scritta nel consiglio dei ministri restano pezzi di carta serve una strategia complessiva avuta la consapevolezza che il problema è molto molto complesso e serve una strategia complessiva soprattutto preventiva perché quando poi un fatto grave è successo il danno spesso è irreparabile da un punto di vista del danno fisico verso la persona che subisce violenza ma anche dal punto di vista psicologico della persona che ha subito violenza dei familiari o della comunità che viene colpita allora io ho visto in quest'estate purtroppo in tante città fatti gravissimi a Pisa che pure è governata dall'amministrazione locale di destra o a Grosseto governata da molti anni dall'amministrazione di destra o questo qui di Firenze noi dobbiamo scorporarlo dalla polemica nei confronti del sindaco di turno che spesso si trova a dover gestire situazioni complicate quando il sistema complessivo del paese si dimostra inefficace e inadeguato ora non bisogna nemmeno però aspettare che da Roma risolvano il problema perché temo che non lo risolveranno allora io dico bene l'incontro di ieri in prefettura bene la scelta di adottare tutti insieme prefettura questura carabinieri comune di Firenze una strategia comune in questo caso per quanto riguarda la zona di Palazzuolo ma dico bene anche l'impegno della sindaca a Funaro a estendere l'azione sulle cascine e sulle altre zone della città che vivono situazioni di difficoltà le misure che vengono messe in campo mi sembrano ragionevoli cioè più agenti presenti in attività preventiva perché ripeto quando poi il fatto grave succede il problema rimane e quindi gli agenti che si muovono anche a piedi costruiscono relazioni con i cittadini io credo che possano svolgere una funzione importante è interessante anche la misura della chiusura anticipata dei minimarket non perché il minimarket sia la causa del comportamento scorretto di altri ma io ricordo qualche anno fa quando ero assessore alla sicurezza del comune di Firenze verificammo che c'erano situazioni nelle quali i minimarket restavano aperti molte ore la notte una vendita diffusa eccessiva di alcolici e l'intorno delle situazioni di problematicità di ordine pubblico quindi anche questo intervento mirato può essere una soluzione interessante però quello che serve è impegno di tutti a zerare le polemiche di partito perché sono solo demagogia spicciola che non serve e mettere in campo azioni larghe e ampie che lavorino per prevenire situazioni di degenerazione e per questo servono misure appunto di vario tipo maggiore presenza delle forze dell'ordine utilizzo delle telecamere azioni di recupero urbano per zone in difficoltà ripeto la strategia che ieri è stata messa in campo e fare ragionevole perché tocca punti punti diversi Onorevole c'è anche da dire questo è cambiato diciamo anche proprio per tante ragioni è cambiato anche diciamo così coloro che sono a rischio per quanto riguarda le aggressioni uscendo ovviamente dai fatti di micro criminalità se guardiamo lo sciopero indetto domani dagli autisti il tema proprio degli autisti dei bus di Autolinea Toscana che dicono vogliamo vigilanza sulle linee a rischio e l'altro fronte molto caldo in questo momento è quello dei sanitari che nei plessi ospedalieri nelle strutture sanitarie si trovano ovviamente a chiedere anche qua forme di vigilanza che vanno dai vigilantes privati ma più volte prefetti delle città l'ultimo è stato quello di Livorno che hanno messo in piedi dei propri protocolli proprio per garantire la sicurezza a chi opera negli ospedali cioè se uno capisce anche queste categorie che si trovano a rischio e aggressione diciamo così fa una riflessione ulteriore non c'è dubbio molto spesso questi fatti gravissimi che colpiscono lavoratori e lavoratrici del nostro paese sono anche qui determinati da soggetti in situazione psichiatrica precaria o in situazione di disagio sociale quindi torno al tema serve come dire costruire una risposta larga di sistema con investimenti faccio un esempio che non sembra collegato ma se il governo nel bilancio dello Stato taglia le risorse ai comuni come è successo recentemente e i comuni sono costretti a ridurre i loro investimenti ad esempio nell'assunzione di polizia municipale o nella riqualificazione di alcuni quartieri oppure nell'investimento sui servizi sociali è del tutto plausibile che succeda che aumentano le sacche di marginalità che poi difficilmente possono essere gestite e che possono creare anche problemi in sicurezza di ordine pubblico quindi per tornare al tema di cui prima servono risorse e misure larghe che servono a prevenire questi fenomeni però sul tema in particolare dei sanitari e degli autisti del trasporto pubblico locale qui c'è un'emergenza che devo dire torna a ripetersi perché non nasce ora in questa fase c'è una recrudescenza molto pericolosa e qui serve una consapevolezza complessiva della politica io faccio un esempio non voglio fare polemica perché su temi poi sensibili bisogna fare squadra però non più tardi di un mese fa un mese e mezzo fa ho presentato in Parlamento un atto che riguardava proprio il tema delle aggressioni al personale sociosanitario negli ospedali e non ho chiesto miliardi che so che non ci sono ma siccome c'è una legge di alcuni anni fa che è finalizzata a mettere in campo degli strumenti di tutela e prevenzione a favore del personale sociosanitario e mi risulta che alcuni strumenti non sono stati attivati come l'osservatorio sulla sicurezza o altri ho chiesto senza chiedere risorse in più di attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa recente appunto per prevenire le situazioni di insicurezza negli ospedali persino su quello mi è stato dato parere contrario da parte del governo e molto contrario al Parlamento un mese dopo è venuto alle cronache il fatto che però era già in atto io ovviamente ho presentato quell'atto perché parlo con gli infermieri parlo con i medici nella città di Firenze io sono un parlamentare fiorentino ma colgo che c'è un problema e lo sanno tutti allora le risorse non sono infinite il governo avrà grandi difficoltà a fare la manovra di bilancia avete letto che c'è l'ipotesi di tagliare bonus il bonus famiglia quindi la situazione è sicuramente molto più complessa di quanto non dica ad oggi Giorgia Meloni ma lo si capisce anche dalle tensioni che ci sono nella maggioranza però le risorse sono importanti ma non c'è solo un tema di risorse c'è anche un tema di consapevolezza politica e io credo anche di impegno a lavorare insieme su questo tema superando anche gli steccati politici perché io tendo a ritenere e voglio pensare che lavorare per prevenire l'insegurezza possa essere una battaglia comune però serve uno sforzo anche intendo dire un po' più di qualità altrimenti andiamo a rincorrere l'emergenza poi per qualche mese il tema si abbasserà e di nuovo di fronte a un fatto gravissimo torneremo tutti a sorprenderci è inaccettabile che un medico un infermiero che lavora la notte in ospedale per salvare le vite alle persone o per gestire le persone che si trovano in ospedale debba anche dover gestire un rapporto difficilissimo con persone talvolta sotto problemi psichiatrici o con problemi di grande disagio però la notizia che ci ha dato è questa lei ha chiesto diciamo sì di attivare quelle risorse quelle misure che erano già previste dalla legge vigente e l'è stato detto di no ovviamente l'ha fatto in Parlamento sì ovviamente poi quando è esplosa questa tensione ho letto che il Ministero ha detto bisogna mettere in campo gli strumenti quindi è tutta l'idea del ciò di pensamento però lo sollevo come esempio non è che il mio anno sarebbe risolto i problemi del mondo però avevo voluto portare in Parlamento un tema che non era ancora esploso i giornali qualche settimana dopo è esploso e sono stati costretti a dire che c'è un problema e bisogna gestirlo però serve a spiegare anche ai nostri telespettatori cosa fanno i parlamentari detto questo allora volevo andare invece a parlare un po' di politica il tirreno di oggi eccoci qua Barbara Antoni che racconta un contenitore di idee per l'unità del PD la proposta di Nardella dalla festa al Galluzzo al lancio dell'iniziativa ci saranno politici ed esponenti del mondo culturale del volontariato è venerdì alle 19 alla festa dell'unità al Galluzzo Dario Nardella vedo anche la sua foto quella di Federico Gioranzi insieme al sindaco di Salvetti il sindaco di Livorno Luca Salvetti ma che fate la corrente di Nardella dentro il PD onorevole no non c'è bisogno non ne abbiamo bisogno ce ne sono già abbastanza di correnti fate una corrente nuova esatto ce ne sono tante no ce ne sono tante devo dire allora io non sono con le correnti nei grandi partiti culturalmente intendo dire nei grandi partiti di massa è naturale che esistano sensibilità politiche di proposte diverse quindi ci può stare che si organizzino delle aree politiche delle corrette dentro i partiti per portare avanti quelle idee e renderle più forti dentro il partito però dobbiamo riconoscere che c'è stata una degenerazione anche nel nostro partito e spesso talvolta sono diventati strumenti più di contrapposizione personalistica io aderisco a questa iniziativa che ha lanciato l'ex sindaco di Cresce l'eroparlamentare Nardella perché in realtà ci colgo come dire lo spazio per un contenitore che mi piace cioè stiamo a mettere in campo una piattaforma aperta plurale a figure politiche del nostro partito e anche a soggetti del mondo della cultura dell'impresa del sindacato per mettere in campo idee e proposte a disposizione del PD della Toscana in vista della sfida delle regionali ecco cioè mi sembra interessante l'idea di provare ad allargare a coinvolgere cogliendo anche un'opportunità che il corso del partito targato da Lischlein a Roma e anche Emiliano Fossi in Toscana ha messo in campo cioè quello spazio di un PD certo molto chiaramente connotato in relazione all'agenda politica ma ha anche determinato essere plurale bene in questa pluralità c'è lo spazio per chi vuole dare una mano di essere protagonista quindi cogliere l'occasione del successo degli europei in cui in Toscana il PD è stato il primo partito e delle elezioni amministrative il PD in Toscana ha vinto tre sfide molto difficili abbiamo parlato spesso ha vinto a Livorno ci stava ha vinto a Prato era molto difficile qualche mese prima delle elezioni veniva ipotizzata la vittoria della destra e ha vinto a Firenze che era un test nazionale e tutti sappiamo quanto sia stata difficile quella sfida per il partito democratico che poi ha vinto quindi a fronte di questo bel risultato in controtendenza rispetto anche ai risultati del PD negli anni precedenti noi pensiamo che sia utile a cogliere questa occasione non aspettare le prossime elezioni non ci sono poltrone da chiedere perché le elezioni ci sono già state c'è lo spazio per discutere per mettere in capo un po' di idee per la Toscana del 2025 che sarà chiamata una grande sfida quindi in questo senso questo contenitore mi piace perché offre spazio e protagonismo proprio su questo sulla Toscana del 2025 che andrà ovviamente al voto presumibilmente nell'autunno del 2025 si discute nel centro-destra dove ieri abbiamo avuto ospite Marco Stella segretario regionale di Forza Italia che ha messo un freno a un'eventuale candidatura di Tomasi ha detto buoni non è una candidatura che è stata portata ufficialmente parliamone non è detto che tocchi a Fratelli d'Italia cioè nel centro-destra hanno iniziato la discussione nel centro-sinistra invece c'è una sorta di cautela a confermare il governatore Eugenio Gianni che comunque sarebbe riconfermato dopo un primo mandato cioè perché secondo lei c'è questa cautela su Gianni ma allora io direi innanzitutto che il PD può muoversi in un quadro diverso rispetto a quello che c'era un anno fa o prima delle elezioni europee cioè è emerso con grande chiarezza e lo dimostrano le divisioni crescenti della destra che il PD è molto forte in Toscana e che le potenziali alleanze del Partito Democratico rendono il centro-sinistra molto forte e guardate non era una situazione scontata perché abbiamo più volte discusso analizzato la situazione toscana un anno fa anche dopo le elezioni ad esempio amministrative del 2023 che andarono male per il PD e la destra spesso aveva dichiarato che era pronta come dire a mettere in campo Tommasi il sindaco di Pistoia per contendere la regione il quadro europee del 24 e delle amministrative del 24 ha detto un'altra cosa ha detto che il PD è forte sta crescendo il centro-sinistra è forte e allora questo quadro più positivo di prima che non deve portare a sottovalutare nulla per l'appunto induce a dottor PD e la Toscana aprire un percorso e allora ha detto ed è anche ragionevole che prima di formalizzare la candidatura alla presidenza si lavora per costruire l'alleanza il programma il progetto e poi viene formalizzata la candidatura in questo senso però è del tutto evidente che il presidente Gianni che peraltro sta lavorando con Fossi con il nostro segretario regionale su questo percorso è il presidente in carica il presidente al primo mandato e sta lavorando bene perché Gianni ha dovuto governare la Toscana una fase molto difficile non dimentichiamoci che Gianni è diventato presidente nel 2020 l'anno del Covid ha dovuto gestire la crisi sociosanitaria la crisi economico sociale che ne è derivata e con un lavoro di grande radicamento di grande come dire determinazione che gli viene riconosciuto da tutti ha governato bene la Toscana e sta ben governando ora lui deve concentrarsi insieme alla giunta e ai nostri consiglieri regionali a governare bene la regione e insieme al partito costruire questo percorso che è un percorso di allargamento e di condivisione per questo non viene fatto a scatola chiusa ma ci sono tutte le condizioni per fare bene senza sottovalutare nulla perché le sfide sono sempre tutte difficili ma per andare a provare a conquistare il successo nel 2025 e offrire alla regione Toscana 5 anni di impegno vero perché la fase come dire geopolitica è veramente una fase difficilissima forse nessuno avrebbe immaginato non dico 20 anni fa ma nemmeno 5 anni fa che avremmo vissuto tutto quello che stiamo vivendo prima il covid e ora le guerre i conflitti la rottura delle relazioni internazionali quindi ci vuole grande serietà grande determinazione perché le sfide saranno molto impegnative però io penso onestamente che il percorso intrapreso è un percorso lungimirante che coinvolge tutti e ci porterà al tempo opportuno a fare le migliori scelte e essere molto competitivi per la regione grazie grazie all'onorevole Federico Gianassi che è stato con noi buona giornata e buon lavoro grazie a voi andiamo nelle pagine interne del quotidiano il Tirreno dove ci si occupa invece della stagione turistica il turismo non ha fatto boom spiega il Tirreno all'Elba occupati posti occupati all'88% niente over tourism la domanda italiana è in calo ovunque eccetto che sull'isola il risultato di agosto migliore di giugno e luglio che invece sono andati a rilento i numeri sul quotidiano il Tirreno di oggi gli albergatori albani bisogna investire su un collegamento ferroviario da Firenze a Pisa e Campiglia e poi sempre all'interno del quotidiano il Tirreno in Toscana il mattone rende a Livorno conviene investire il rapporto tra capitale e locazioni tradizionali premi e capologhi meno inflazionati Tecnocasa il 20% acquista per far fruttare risparmi spesso sono piccole eredità andiamo anche all'interno del quotidiano il Tirreno a Livorno cocaina consumo boom droga anche a 14 anni aumentano gli utenti presi in carico dal servizio dipendente e responsabile e noi vediamo solo la punta dell'iceberg poi sempre a Livorno i vigili allontanano 13 clochard la battaglia per il decoro li assisteranno i servizi sociali l'operazione in diverse zone della città dalla stazione a largo Duomo in Piazza Dante è stato rimosso il camper distrutto dalle fiamme nelle scorse settimane il racconto anche con le foto del quotidiano il Tirreno siamo a Cecina pulizia straordinaria delle vie attenzione di vieti di sosta nelle zone interessate stop al parcheggio dalle 7 alle 10 e poi ancora a Cecina dove torna il meeting anzi razzista incontri e concerti alla Cecinella appuntamento dal parco dal 10 al 13 settembre a Rosignano nel fiume Fine rimuovere i liquami è un intervento impossibile l'assessore ripeti non si può pompare via tutta l'acqua il titolare dell'ambiente risponde in consiglio rimossi 200 metri cubi ora aspettiamo risposte sulle bonifiche poi siamo a Piombino il faccia a faccia Taurso e Gindal si cerca l'intesa sulle aree ieri a Roma il tavolo interministeriale stamani l'incontro decisivo ma il progetto industriale di Gindal non convince i sindacati a Follonica il comune spende 200 mila euro per la manutenzione delle scuole l'intervento più complesso quello previsto per la primaria di via Cimarosa all'Elba è approdato in commissione il nuovo bando per i traghetti ascoltati sindaci e sindacati resta alta la preoccupazione sui tempi e poi siamo a Grosseto un pino si abbatte sull'auto in sosta mattina di paura inviamo un viso bambino e la nonna illesi transito chiuso per la rimozione e poi Vazzano è la scelta migliore il sindaco presenta la nuova assessora al sociale il persona ideale al sociale per questo momento storico dice il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna Maria Chiara Vazzano è la nuova assessora di Grosseto poi siamo a Viareggio Porto inizia l'avventura di Lucchesi eccellenza condivisa con la città i progetti del nuovo segretario dell'autority ecco le prime cose da fare poi a Carrara la città premia Lorenzo Musetti medaglia di bronzo nel tennis all'olimpiadi con l'alta benemerenza siamo ancora all'interno del quotidiano il tirreno a massa ambulanti in città ma la giunta tira dritto gli operatori hanno incontrato i capigruppo a fine assise incoronato abbiamo ribadito che è una fase sperimentale quella per lo spostamento dei mercati e poi la storia che leggiamo sul quotidiano il tirreno da Pisa a Birkenau brucia ancora la vergogna delle leggi razziali 5 settembre del 38 a San Rossore la legge d'Italia Vittorio Emanuele III firma i decreti antiebraici che condannano migliaia di persone allo sterminio e vedete questa foto sul quotidiano il tirreno di oggi che ricorda appunto questo anniversario tragico a Pisa Carrefour c'è l'accordo tutele per 180 lavoratori la multinazionale francese cede la gestione dell'ipermercato al via alla riorganizzazione il punto vendita chiude tre giorni sempre all'interno del tirreno ma a Empoli nuove tecnologie in stazione weekend senza treni per lavori arriva un moderno sistema di controllo lo stop il 28 e il 29 ad Arezzo con il quotidiano nazione rapina agli anziani giudizio immediato il colpo all'esterno dell'ospedale di San Donato nigeriano fu bloccato alla pionta e malmenò anche gli agenti e poi morta in casa trovata la figlia la donna era in un albergo a Rimini l'inchiesta per abbandono di incapace a Empoli furti e spaccio scattano le misure giorni intensi per i carabinieri che hanno arrestato anche un ladro di Rolex dopo il colpo in abitazione e poi la festa della liberazione a Empoli con un calendario di eventi e una piazza dedicata andiamo avanti anche con i titoli all'interno delle edizioni locali della Nazione siamo a Prato Tessile battaglia per i 10 milioni le associazioni di categoria rispondono presenti all'appello del comune per fare squadra anticrisi andiamo anche su notiziediprato.it sito molto seguito e apprezzato il titolo di apertura riguarda il traffico di droga 10 arresti tra Toscana e Umbria la rete di spaccio attiva anche a Prato poi sempre all'interno del quotidiano Nazione l'edizione di Pistoia Montecatini undicesima edizione con talk workshop e iniziative il verde che unisce rigenera parla è lo slogan un parco in città torna dal 13 al 15 settembre l'appuntamento dedicato alla sostenibilità e poi a Montecatini l'impegno di Gianni sulle terme la regione farà la sua parte siamo sempre interessati all'acquisto termina qua quest'appuntamento con refresh la rassegna stampa di Toscana TV e Firenze TV noi torniamo domani mattina puntuali come sempre alle 6 e 50 ad Andrea Vignolini a tutti voi l'agurio di una felice giornata Ale